Per prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Papa Francesco in difficoltà durante la celebrazione nella Domenica delle Palme. Per la celebrazione del Papa, di ieri mattina, erano presenti 25.000 fedeli circa. Tuttavia, Papa Francesco è apparso fin da subito molto sofferente, per diversi minuti in silenzio, ha preferito non leggere l'Omelia, dopo la proclamazione della Passione del Signore, né di affidarla ad un sacerdote vaticano come ultimamente fa per via della tosse che lo tormenta. Il Papa ha pregato ricordando le vittime dell'attentato a Mosca. Per le vittime del vile attentato terroristico compiuto l'altra sera a Mosca, e perché Dio converta i cuori di quanti pensano, Organizzano queste azioni disumane che offendono Dio il quale ha comandato di non uccidere. Preghiamo per tutti i fratelli e le sorelle che soffrono a causa delle guerre. In modo speciale penso alla martoriata ucraina dove moltissima gente si trova senza elettricità a causa degli intensi attacchi contro le infrastrutture. Preghiamo per tutti i fratelli e le sorelle che soffrono a causa delle guerre.